Su Spettacolo Mania siamo con Sveva Alviti, buongiorno, ben trovata, come stai? Buongiorno, molto bene, grazie. E voi? Abbastanza bene, grazie. Vabbè, intanto, brevissimamente, grandi complimenti per Venezia. Hai proprio svolto il tuo ruolo da madrina alla perfezione, immagino che sia stata molto soddisfatta. Sono stata molto soddisfatta, è stata un'esperienza incredibile che ripeterai anche domani, ma devo dire che viene da una preparazione, mi sono molto preparata, l'ho fatto in una maniera molto professional, quasi come se devo preparare un torneo di tennis perché vengo dal tennis, quindi in qualche modo l'ho fatto come una sportiva e il risultato si è visto e sono contenta che mi stai facendo i complimenti. È vero, si è visto. Allora, veniamo a News, la nuova stagione di questa serie che parla di revenge porn e in generale della nostra intimità che viene spesso messa, diciamo, la berlina in piazza, la berlina di tutti, per motivi svariati. Allora, il tuo episodio riguarda Francesca e Michela. Michela è la tua ragazza, la tua compagna interpretata da Lucia Mascino, solo che lei poi per stare con te ha lasciato il marito e a un certo punto arriva un video. Cosa ci puoi raccontare? Posso raccontare che all'inizio, intanto voglio raccontare, fare una premessa, che il personaggio di Francesca è un personaggio che cerca di entrare piano piano in questa famiglia, che è già composta, con due figli adolescenti e quindi cerca in qualche modo di ricreare la normalità in questa famiglia perché è innamorata follemente della sua compagna e è una donna con un cuore puro, è una donna che vuole dare tutto alla sua compagna, infatti si occupa anche di portargli il telefono se per questo meeting che deve fare se lo dimentica, cioè veramente è dedita anche proprio alla compagna e alla carriera della compagna quindi cerca proprio in tutto, vuole stare con lei. Sicuramente all'inizio questo video lei non vuole vederlo perché si fida ciecamente di Lucia Mascino, però poi decide di vederlo e purtroppo si rende conto di alcune cose che comunque la faranno molto soffrire. Senti, che cosa pensi di queste situazioni che si creano, a volte con leggerezza, perché diciamo che poi questa nuova stagione sposta l'attenzione dal mondo adolescenziale al mondo degli adulti perché anche gli adulti vengono colpiti da queste cose quindi tu cosa pensi? Conosci persone che ne sono state vittime, non voglio credere, insomma persone che l'abbiano provocato cioè hai paura certe volte, temi che la tua intimità possa appunto essere messa in piazza in qualche modo? No, quello che voglio dire è sicuramente molto interessante e affascinante il fatto che questa seconda stagione parli proprio agli adulti perché la prima era sui giovani e tutti pensano che sono i giovani a fare questo tipo di cose ma in realtà non è così, può capitare anche nel mondo degli adulti. Non ho avuto persone alle quali è accaduto, grazie a Dio credo che comunque venga sempre da una sofferenza il fatto di divulgare dei video di intimità eccetera quindi magari è una sofferenza che non viene gestita all'interno, quindi non so se ti è mai capitato ti lascio, blocco il tipo, fai queste cose stupide e poi dopo due secondi ti rendi conto qua parliamo di una cosa molto più grave chiaramente, di uno spaccato della società che oggi più che mai con il fatto dei telefoni, con il fatto dei social è una cosa alla quale dobbiamo stare attentissimi e purtroppo Michela e Francesca ne rimangono tutte e due estremamente scottate. Come accade spesso anche per la violenza in genere, la violenza fisica, qui parliamo di violenza naturalmente psicologica ed emotiva ecco molto spesso come vediamo in queste storie, diciamo la minaccia tra virgolette arriva proprio da chi ci sta vicino proprio come succede per la violenza domestica, come possiamo riconoscerla e soprattutto poi alla fine perdonarla perché in certi casi succede questo. È molto complessa la cosa perché sì, viviamo in un momento chiaramente dove c'è molta violenza, molti femminicidi molto complicata la cosa, sicuramente in questo caso e in questi episodi in qualche modo poi Michela è quasi obbligata a perdonare, non può non perdonare poi chiaramente voi spettatori capirete il perché io sinceramente nella mia vita personale non credo che perdonerei se mi accadesse una cosa del genere e comunque anche se non è una violenza fisica è comunque una violenza mentale è una violenza soprattutto dell'intimità che è una cosa molto pura e che deve rimanere tale e poi è inutile fare bigotti nel senso di stare lì a puntare il dito nelle nostre episodi a un certo punto anche il lavoro di Michela inizia a trasformarsi, inizia a cambiare perché non gli danno più progetti alla sua altezza proprio perché hanno visto il video ma perché se poi in qualche modo si parla di amore l'amore lo facciamo tutti e grazie a Dio è una parte importante della vita delle persone soprattutto lei l'ha fatto con suo marito quindi anche lì sono dei punti interrogativi ai quali dovremmo un po' tentare di rispondere grazie mille, grazie